Architettura e design Al centro di questo approfondimento su TRM H24 lo facciamo con riferimento alla visita nella città dei Sassi del grande designer Axel Verwood Matera e come la musica di Mozart sempre moderno. Axel Verwood, lo vedete in queste immagini, ha prodato nei giorni scorsi a Matera insieme a lui la concezione di un'architettura semplice, dinamica, pulita. Per la città dei Sassi che ha visitato immagina un equilibrio di colori, non più di cinque, che ne esalta le bellezze. Verwood, ospite dell'hotel San Pietro, ha portato con sé immobiliaristi, finanzieri e appassionati di arte provenienti da tutto il mondo. Nella roccia scavata dell'hotel di via Bruno Bozzi ha parlato di architettura, grandi metropoli e futuro con il sindaco Salvatore Adduce e con l'architetto Tonio Acito. Matera è una città favolosa esordito, aggiungendo un monito al sindaco e quindi alla città legato alla necessità di preservare e difendere ciò che la città stessa conserva ancora del proprio passato. E' importante, ha sottolineato il grande designer, che l'architettura futura resti pura. In poche parole il collezionista e interior designer Fiammingo ha descritto l'impatto con la città e con la testimonianza di civiltà millenarie, come quella di Castel del Monte, che ha raggiunto per una visita tra l'altro nei giorni scorsi. L'occasione per far entrare in contatto Matera Berwood è stata l'assemblea annuale dell'associazione Inspiratum, che sostiene giovani artisti di musica e danza in tutto il mondo. Tra l'altro riferimenti ci sono stati alla rottura provocata dagli anni 60, ma anche dall'epoca attuale, che ha necessità di ritrovare il senso del vuoto. Matera deve evitare di fare troppo avvertito, come è accaduto a Roma, a Tokyo o a Firenze. La conoscenza delle proporzioni a Matera è assolutamente sacra, ha aggiunto, mentre a Duce, ascoltandolo, ha sottolineato uno dei punti forti del dossier, il futuro remoto, che trova nella filosofia di Berwood un elemento assolutamente di sintesi. E infine, Tonio Acito, un suo fan assolutamente entusiasta, non ha potuto non sottolineare i punti di contatto, l'importanza di tutelare spazi e proporzioni in un contesto del tutto particolare, come quello della città di Matera. Ed è proprio alla città che non si è mai, come dire, distaccata dalle sue origini, ma dalla quale si genera la vita parallela a quella più nuova, costruita sul piano, ha fatto riferimento anche il sindaco Salvatore a Duce. E noi, per ricordare la visita del grande designer nella città dei Sassi, vi proponiamo questo contributo. Venezia, Berlino, Parigi, Londra e New York sono le tappe più frequenti dei suoi viaggi, poi si è lasciato incantare da Matera. Il noto architetto, interior design e collezionista belga Alex Berwood è stato scoperto dal grande pubblico con l'allestimento di tre megamostri a Parigi e a Venezia in occasione della Biennale. Ha una galleria d'arte nel cuore di Anversa, è una cittadella dell'arte in costruzione, dove presto prenderà vita anche una fondazione. Da pochi anni ha aperto una galleria a Hong Kong. Berwood ha portato nella città dei Sassi una trentina di amici, architetti, immobiliaristi, finanzieri di livello mondiale che in queste ore stanno visitando gli antichi rioni di Tufo. Ieri pomeriggio, in una sala di Corte San Pietro, è stato accolto dal sindaco di Matera Salvatore a Duce e dagli architetti Tonio Ecito e Ina Macaioni, con i quali ha intrattenuto una conversazione informale sui Sassi e sulle suggestioni che essi evocano. Axel Wernwoord, sei qui oggi per parlare sui possibili progetti, sull'architettura, è vero? Non, è solo un'espressione di un'ottima amore per Matera. E che immediatamente ho i progetti, quando penso di qualcosa che mi piace molto, che potrebbe essere arte o qualcosa, e credo che Matera è un luogo incredibile, e è davvero un mondo giù che appena al tuo mondo, perché senti che è l'origine del mondo. Credo che tutti potrebbero essere descritti da questo, credo che non importa dove vivi, è un'ottima amore di un'ottima amore di un'ottima amore di un'ottima amore di un'ottima amore, è un'ottima amore di un'ottima amore di un'ottima amore di un'ottima amore. e la proporzione è una relazione tra il divino e il humano, è tutto questo, e può sempre tornare a uno, tutte le buoni proporzioni, il quadro, la seczione di guida, la ruta di due, la ruta di tre, e è tutto presente qui, e è questo sentimento di oneness, sentimento, credo che c'è un sentimento incredibile oneness in Matera, credo che il mondo del mondo di oggi necessita molto, per tornare a un sentimento di pazza e universale, e non sbagliare l'unico, e pensare molto globalmente, ma agire molto localmente, quindi credo che puoi essere molto individuali qui, ma in questo sentimento globale oneness. Grazie, e guardando al futuro, hai detto prima che la conservazione è importante, e in Matera un grande progetto è già finito, portando il Sassi a questo punto, ma in il futuro, come credo che il Sassi dovrebbe continuare a rivolgere? Credo che la città moderna deve avere un'evoluzione, e credo che è importante per la vita di questo, e cosa senti che sia importante in Matera, hai l'ultima Sassi, hai l'altra città, e hai l'ultima città. Ma ho avuto un buon shock, quando ho arrivato qui, e ho visto che tutti i bambini moderni, uno è blu, uno è bambino, uno è bambino, uno è bambino, uno è bambino, l'altro è bambino, perché vogliamo essere il più forte, devi vedere il mio bambino, e questa mentalità non funziona in Matera. Credo che questa è la prima cosa che mi chiede per cambiare, che ci sono solo un po' colori che puoi usare, solo naturali, come le stoni qui, come la lina, possono anche fare le colori da l'acqua di stoni qui, e questo sarebbe molto bello, come come vedete in Jerusalemi, è tutto fatto in una stessa color, e è una bella città, e anche i bambini, anche i bambini, i bambini, i bambini, sono fatti ok, perché sono dissiperati, e credo che questo è molto facile da fare qui, è solo un brusco di pittura di lima, credo che è solo che vogliamo fare, e il problema di cambiare la mentalità di persone che buildano un grande bambino, credo che devi vedere il mio bambino, e questa pretensione dovrebbe essere, potrebbe essere un problema difficile, ma credo che la legge può cambiare, e al fine, credo che è meglio per tutti, perché a volte è buono vivere in questi bambini, perché si guarda molto bello. Grazie molto, vi piaceremo il tuo giorno. Grazie. Cosa significa la presenza del grandissimo architetto Axel Van Dvoort qui a Matera oggi? Beh, è uno degli esempi della capacità attrattiva che ha la città di Matera, questo personaggio, questa personalità della cultura, europea, ha invitato un gruppo di amici, una trentina di persone, così come fa ogni anno, per offrire loro un premio, da un premio alla fine di un anno di lavoro, una visita in un luogo straordinario. quest'anno è toccato a noi, e non è casuale, e quindi è stata davvero, per me, una grande scoperta, un professionista che si occupa di bellezza e, come lui dice, di proporzioni, che è un elemento caratterizzante del suo lavoro, che lui già dalle prime ore della visita a Matera trova riscontro, di cui trova riscontro nella nostra città. Le proporzioni, la capacità che l'uomo ha avuto, soprattutto, naturalmente, nella parte storica, nei sassi, di non sbagliare nel costruire, nello svuotare, come è accaduto molto spesso, e nel costruire attraverso l'uso di un equilibrio straordinario. Un occhio così attento, come quello di Axel Van Vrood, è sicuramente molto utile, sia al lavoro che stiamo facendo per il capitale europeo della cultura, ma direi, soprattutto, per il futuro remoto, per i progetti che abbiamo, il programma che si svilupperà nel corso dei prossimi anni, direi, nei prossimi decenni. Ci ha dato già alcuni consigli, ha osservato come ci sono delle distonie tra il grande valore, la grande bellezza dei sassi e alcune costruzioni che sono invece nel piano, nella parte alta della città. Correggere, anche grazie a questi suggerimenti, a questi consigli, correggere è un compito che avremo, che abbiamo già oggi, che avremo soprattutto domani, perché dobbiamo riuscire a tenere la battuta in maniera molto più attenta, per poter restituire, per poter tramandare questo grande patrimonio a chi verrà dopo di noi, mantenendo sempre questo equilibrio e queste proporzioni, come dice Axel Van Vrood. Io sono contento perché lui sarà qui qualche giorno insieme ai suoi amici che vengono da tutta Europa, forse anche da qualche altro continente. Vengono ad ascoltare il suono dei nostri luoghi. Reciteranno delle preghiere in alcune delle chiese rupestri della nostra città, faranno suonare delle musiche, lo ha spiegato, di Mozart, di Bach, provando a creare emozioni e condizioni particolarmente emozionanti. Io penso che sia un'esperienza che indica ancora una volta quanto la città sia capace di interessare un mondo magari che fino a qualche tempo fa pensavamo non potesse dedicarci la sua attenzione. Ed è la forza che abbiamo immesso nel lavoro di proposta, di progettazione della candidatura che secondo me dà anche questi grandissimi e splendidi risultati. Grazie a tutti.